Questo strumento avviene attraverso una piattaforma regionale, Sinfonia, di relativo facile accesso e consente con cadenza anche settimanale di seguire i pazienti già conosciuti in ambulatorio. È la nuova frontiera della salute, la telemedicina, diffusasi rapidamente in Italia in concomitanza con la pandemia da Covid-19 ad oggi un alleato importante soprattutto nelle cure palliative e nella terapia del dolore. Un sistema di cura a distanza che punta a migliorare la qualità di vita dei pazienti. All'unità operativa di cure domiciliare dell'ambulatorio di Fratta Minore, la telemedicina si fa regolarmente ed è una prestazione sanitaria a dir poco fondamentale per decine di pazienti. Attivata e dedicata alla terapia del dolore ormai dall'epoca Covid-19 che ha consentito di poter raggiungere a casa i pazienti ormai isolati legato a questo isolamento alla pandemia che quindi li abbandonava a se stessi trincerati anche dal dolore e quindi l'impossibilità di regarsi in ospedale ha stimolato in me la necessità e la possibilità di seguirli con un banale strumento che all'epoca era la telemedicina via videochiamata Whatsapp. Attualmente invece questo strumento avviene attraverso una piattaforma regionale, Sinfonia, di relativo facile accesso e consente con cadenza anche settimanale di seguire i pazienti già conosciuti in ambulatorio di terapia del dolore o a domicilio del paziente quando questi pazienti non possono raggiungere le strutture ospedaliere o ambulatoriali. hanno la possibilità di essere seguiti a distanza e quindi avere tutti i benefici di una terapia sartoriale ossia si imposta una terapia e poi piano piano, settimanalmente se necessario, è possibile modificarla adeguandola momento per momento. Per accedere all'ambulatorio di telemedicina è necessario chiaramente avere una visita in un ambulatorio, una visita da vicino chiaramente perché non è possibile iniziare una terapia a distanza senza conoscere il paziente. Qua ormai è aperto a fratta minore presso l'unità operativa complessa di cure domiciliari e oltretutto qualora i pazienti non fossero in grado di venire in uno degli ambulatori dell'ASL e poi dopo vengono seguiti in telemedicina è possibile che noi facciamo delle consulenze a domicilio e a quel punto sarà possibile continuarle a seguire a distanza. Presso questa unità operativa complessa di cure domiciliari ci sono gli ambulatori di nutrizione artificiale e si sviluppa l'attività delle cure domiciliari e soprattutto delle cure palliative che hanno un'importanza strategica fondamentale per l'assistenza dei pazienti con dolore.